La crescita demografica, la progressiva perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici e l'insorgenza di nuove malattie infettive sono le quattro sfide principali della nostra epoca. Per poterle affrontare serve un approccio multisettoriale di integrato denominato One Earth. Non è un caso che la One Earth sia uno dei temi principali del G7 di Ancona. Noi di AMREF e di One Earth ce ne occupiamo dal 2015, da quando cioè promuoviamo dei programmi di One Earth in Africa e in particolare in Africa orientale, nel corno d'Africa, la regione maggiormente colpita dai cambiamenti climatici. Nei nostri progetti promuoviamo le One Earth Unit, delle unità dove è possibile avere accesso a servizi di salute animale, servizi di salute umana e tutela dell'ambiente. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità locali e con le comunità. Le reti di osservazione comunitaria sono fondamentali. Ci aiutano a monitorare le condizioni climatiche ma anche le condizioni di salute degli animali e di intervenire in maniera tempestiva quando c'è una crisi. Questo per ridurre gli impatti di una potenziale crisi sia sul benessere delle comunità ma anche sulle loro capacità di produrre reddito. La One Earth dunque è un approccio efficace in grado di affrontare le sfide della nostra epoca. Bisogna sostenerla attraverso una volontà politica e attraverso delle risorse economiche adeguate.